E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle 8.50 in via Francesco Guicciardini, intersezione con via Emilio Cecchi, zona case popolari di via Cicere di Francisca a Favara. A scontrarsi un'auto, un Opel Mocca alla cui guida c'era un uomo ed un'Aprilia Scarabeo con in sella un giovane. Ad avere la peggio è il centauro che è stato immediatamente trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dai primi racconti forse avrebbe sbattuto la testa. Sul posto hanno lavorato gli agenti della sezione antinfortunistica del comando dei vigili urbani che hanno effettuato i primi rilievi. Ancora da accertare l'esatta dinamica, l'unica certezza è che l'intersezione non è segnalata. La strada è tornata libera solo dopo l'intervento della squadra di ripristino post-incidente della ditta Pullara di Favara.